Un buongiorno a tutti i radioascoltatori, questa mattina siamo in diretta dall'Istituto Galizia e abbiamo con noi il Vicepreside, il Professor Tuzzi. Vicepreside, buongiorno e come sta? Io sto bene, buongiorno. Questa mattina si avrà un convegno che tratterà dell'Europa con Europe Direct Salerno e Moby Dick. Che cosa ci può dire al riguardo? Diciamo che questo incontro è una delle parti conclusive per quanto riguarda il progetto Scuola Viva che ha interessato una gran parte dei nostri alunni, diciamo un buon 40% dei nostri alunni in varie attività progettuali che sono state attivate su diversi campi afferenti comunque agli indirizzi principi del nostro liceo, indirizzo artistico, indirizzo musicale e poi chiaramente scienze umane. Diciamo attività che si sono calate nel territorio, che si sono avute attività anche all'interno della scuola ma soprattutto abbiamo portato i ragazzi fuori a conoscere la realtà locale, la realtà della provincia di Salerno utilizzando peraltro le loro conoscenze negli ambiti, nei settori di cui ho detto in precedenza. Quali saranno i prossimi eventi di Scuola Viva? Diciamo che le attività stanno in via di conclusione, il prossimo evento sarà manifestazione generale che si darà sia a scuola e presumibilmente anche a Salerno nella sede di Moby Dick.